dalle favole al telefono di gianni rodari il naso che scappa il signor gogol ha raccontato la storia di un naso di leningrado che se ne andava a spasso in carrozza e ne combinava di tutti i colori una storia del genere è accaduta alla veno sul lago maggiore una mattina un signore che abitava proprio di fronte al pontile dove si prendono i battelli si alzò andò in bagno per farsi la barba e nel guardarsi allo specchio gridò aiuto il mio naso il naso in mezzo alla faccia non c'era più al suo posto c'era tutto un liscio quel signore in vestaglia come stava corse sul balcone giusto in tempo per vedere il naso che usciva sulla piazza e si avviava di buon passo verso il pontile sgusciando tra le automobili che si stavano imbarcando sulla motonave traghetto per verbania ferma ferma gridò il signore il mio naso all'altro all'altro la gente guardava in su e rideva le hanno rubato il naso e le hanno lasciato la zucca brutto affare quel signore non rimase che scendere in strada e inseguire il fuggitivo e intanto si teneva un fazzoletto davanti alla faccia come se avesse il raffreddore purtroppo arrivò appena in tempo per vedere il battello che si staccava dal pontile il signore si buttò coraggiosamente in acqua per raggiungerlo mentre passeggeri e turisti gridavano forza forza ma il battello aveva già preso velocità e il capitano non aveva nessuna intenzione di tornare indietro per imbarcare ritardatari aspetti l'altro traghetto gridò un marinaio a quel signore ce ne è uno ogni mezz'ora il signore scoraggiato stava tornando a riva quando vide il suo naso che steso sull'acqua un mantello come san giulio nella leggenda navigava a piccola velocità dunque non hai preso il battello è stata tutta una finta gridò quel signore il naso guardava fisso davanti a sé come un vecchio lupo di lago e non si degnò neanche di voltarsi il mantello ondeggiava dolcemente come una medusa ma dove vai gridò il signore il naso non rispose il suo disgraziato padrone si rassegnò a raggiungere il porto di laveno e a passare in mezzo a una folla di curiosi per tornare a casa dove si tappò dando ordine alla domestica di non lasciare entrare nessuno e passava il tempo a guardarsi nello specchio la faccia senza naso qualche giorno dopo un pescatore di ranco tirando sulla rete ci trovò il naso fuggitivo che aveva fatto un naufragio in mezzo al lago perché il mantello era pieno di buchi e pensò di portarlo al mercato di laveno la serva di quel signore che era andata al mercato per comprare il pesce vide subito il naso esposto in bella vista in mezzo alle tinche e ai luci ma questo è il naso del mio padrone esclamò inorridita datemelo subito che glielo porto di chi sia non so dichiarò il pescatore io l'ho pescato e lo vendo a quanto a peso d'oro si sa è un naso non è mica un pesce persico la domestica corse a informare il suo padrone dagli quello che comanda voglio il mio naso la domestica fece il conto che ci voleva un sacco di denaro perché il naso era piuttosto grosso ci volevano tremenda mila lire 13 13 ogni e mezzo per mettere insieme la somma dovette vendere anche i suoi orecchini ma siccome era molto affezionata al suo padrone li sacrificò con un sospiro compro un naso lo avvolse in un fazzoletto e lo portò a casa il naso si lasciò ricondurre buono buono e non si ribellò nemmeno quando il suo padrone lo accolse tra le mani tremanti ma perché sei scappato ma che cosa ti avevo fatto il naso lo guardò di traverso arricciandosi tutto per il disgusto e disse senti non metterti mai più le dita nel naso o almeno tagliati le unghie dalle favole al telefono di gianni rodari il naso che scappa ecco il naso così bistrattato in questa storia rappresentano il fatto uno dei nostri cinque sensi ma ne abbiamo altri quattro sapete il gusto ad esempio che il senso che ci consente di assaporare al meglio i cibi che mangiamo l'udito che attraverso le orecchie e il senso che ci consente di sentire i rumori anche quelli più lontani la vista che attraverso gli occhi ci consente di vedere i colori dei vestiti che indossiamo tutti i giorni o i colori degli oggetti da cui siamo circondati il tatto il senso dei nostri polpastrelli il senso delle nostre mani ciò che ci consente di capire di che cosa e come sono fatti gli oggetti da cui siamo circondati ehi tu naso qual è il tuo senso preferito l'olfatto beh mi sembra la risposta giusta da parte di un naso e il vostro senso preferito qual è avete voglia di fare un disegno e di mandarlo a settimane chiocciola centroscienza punto it grazie a tutti 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 grazie a tutti